Musica Mercoledì 9 febbraio Santa Pollonia è il quarantesimo giorno dall'inizio dell'anno ne mancano 325 al termine il sole sorge le 7 e 21 tramonta le 17 e 29 da luna sorge le 11 e 16 tramonta luna e 41 dai riformatori allo studio di Padova viene espressamente vietato di frequentare qualsiasi università che non sia quella patavina in special modo viene vietato di frequentare quella di Bologna sostenendo che i laureati di quell'ateneo non fossero sufficientemente preparati ad esercitare la medicina e l'avvocatura Le previsioni per domani tempo stabile con cerno in prevalenza sereno o poco nuvoloso con sviluppo di lungolosità irregolare sui rilievi prealpini dal tardo pomeriggio sera ottima visibilità in quota mentre in pianura e nei fondo valle saranno probabili foschie e nebbie nelle ore più fredde temperature senza notevoli variazioni sui rilievi